Al volley perché si comincia a far sul serio anche nella pallavolo femminile la Bartoccini ha giocato e perso contro Novara nonostante un buon inizio partita in avvio di set era incerta ma poi ha trovato il bandolo della Matassa alla squadra di coach Bovari che però alla fine ha perso contro la Igor Gorgonzola il punteggio 3 a 1 i parziali 25-19, 27-29, 25-16, 25-12 fondamentale la sconfitta alla fine decisiva quella nel secondo set dal terzo poi è emerso il maggior tasso tecnico dell'avversario che hanno chiuso la partita abbastanza agevolmente nella Bartoccini migliore realizzatrice Veronica Angeloni che è riuscita a mettere a terra 14 punti 12 quelli di Serena Ortolani 10 quelli della Albrecht